amici di mila punto soccer eccoci che bello rivedervi che bello avervi ancora con noi su questo canale un saluto da me da alienino che si sta svegliando sta arrivando in ufficio con il suo mezzo con l'astronave delle ore 5 50 è sempre un po in ritardo e il direttore che giustamente essendo il più alto in grado fa colazione con calma un saluto a tutti voi ed è un'altra giornata dedicata al nostro amato milan prima di cominciare come sempre se vi fa piacere essere con me con sangria il direttore con alienino vi invito a iscrivervi qui sotto iscrizione gratuita e a mettere mi piace a questo video attivando la campanella resterete aggiornati su tutto si sta avvicinando il natale allora vi consiglio anche un po più in basso sotto link in descrizione il libro romanzo milan per veri rossoneri per veri milanisti regalatelo ad un amico un parente milanista o a qualcuno che ancora indeciso così leggendo la storia del nostro milan si deciderà arriviamo al dunque avete visto la copertina e questo calcio sta cambiando e noi dobbiamo stare dietro a questi cambiamenti ma la cosa più importante rimane sempre una e cioè bravi il campo allora sto cercando di disegnare la formazione che giocherà contro la fiorentina abbiamo ovviamente in porta magic make megnan di cui abbiamo parlato in settimana per il rinnovo e poi ancora sulla destra abbiamo il nostro capitano calabria al centro ciao tomori allora sulla questione ciao tomori faccio un attimo una piccola pausa perché stavo guardando degli appunti relativi proprio al centro della difesa cioè per il nostro calcio mercato per il calcio mercato chivior è in cima alla lista ve lo ricordate ne abbiamo già parlato ex spezia per un anno e mezzo è stato al spezia alla spezia è un mancino l'arsenal dopo averlo pagato 25 milioni lo darà in prestito punto interrogativo perché faccio questa parentesi perché è sempre più vicino chivior in alternativa abbiamo badia scile che anche avuto diciamo anche lui strapagato dal celsi stessa questione verrà dato in prestito da parte del celsi altri nomi sono alessandro mercadalli e costantinos covierakis non nomi che eccitano la fantasia anche se nel video di ieri vi ho parlato di un gabbia al via real che sta andando particolarmente bene dico questo perché ciao tomori con chi era ancora non in perfetta forma sono gli unici che abbiamo per poter andare avanti in questo campionato allora dobbiamo cercare in questa formazione di guardare attentamente e poi abbiamo ernandez sulla sinistra anche per quanto riguarda ernandez noi abbiamo si bloccato a miranda però bisogna o dare spazio in futuro a bartesaghi oppure bisognerà vedere quello che potrebbe essere un nuovo acquisto torniamo alla formazione di milan fiorentina al centro krunic reinders e poi sulla sinistra pulisic al centro loftus chic ocafor sulla sinistra in attacco jovic quindi questo è quello che percepisco da cose dette non dette da parte del del mister e di tutto l'ambiente rosso nero ma veniamo ad una alla notizia di copertina cioè la superlega si farà incredibile cioè quando si pensava di aver spento l'incendio ecco che quella cenere che era rimasta un po così per definizione accesa beh sta riprendendo vita e queste sono le parole del ceo di a 22 che non è un'autostrada ma la società dietro alla superlega la uefa al centro di numerosi conflitti di interessi e non è valida a portare avanti l'evoluzione del calcio lo dice appunto bernard reichhardt ceo cioè capo esecutivo della a 22 la società che punta a rilanciare il progetto di superlega lo dice nel corso del social football summit in programma che è stato che si realizzerà che si è realizzato a roma perché c'è bisogno della superlega viene chiesto al a bernd bernd io non ce la faccio un giocatore un dirigente ma non si possono chiamare a rossi giovanni bianchi tutti nomi strani anche i calciatori il primo motivo è la gestione dell'attuale sistema con la uefa che al centro di numerosi conflitti di interesse e forse non è valida a portare avanti l'evoluzione del calcio i club si assumono tutto il rischio e la uefa sta sopra a tutti questo è vero il nostro progetto di superlega continua a bernd non si distacca da tutti i campionati ma è compatibile con le esigenze domestiche i calendari la competizione potrà essere un'alternativa alle competizioni europee infrasettimanali e complementare alle leghe nazionali le competizioni attuali non sviluppano appieno il loro potenziale soprattutto non coinvolgono le generazioni più giovani che ormai non seguono più un match per la sua attuale durata il sistema delle classificazioni attualmente in vigore non permette alle squadre di investire in academy infrastrutture calcio femminile sarebbe importante che le squadre più blasonate si affrontassero su palconscenici migliori l'idea di sviluppare la stessa cosa per uomini e donne se vi è un sistema competitivo molto vivo dove le squadre si scontrano regolarmente sono sicuro che ne beneficeranno i brente eccetera 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 in soldoni cosa significa io ricordo un'intervista del 1986 pensate esattamente 60 anni fa quante anno tu non hai 60 anni 86 37 ho di fronte un 86 quindi volevo fare il simpatico un intervista del 1986 a silvio berlusconi che diceva le stesse identiche cose e cioè che le competizioni nazionali rischiano di non essere più interessanti e quindi occorre un campionato europeo per club una formula nuova rispetto alla champions league e soprattutto laddove ci sono milioni di tifosi che amano la loro squadra che dunque amano il club più blasonati beh quelli purtroppo o per fortuna bisogna che in qualche modo tu li vada a coinvolgere detto questo vedremo nei dettagli quando uscirà il nuovo progetto beh che cosa dire che la superlega è ancora viva e dunque è un progetto che si farà io cosa ne penso io penso che la uefa non è il problema della uefa io penso che è il modus operandi della uefa che a me personalmente non piace perché non ha una gestione corrispondente per tutti i club cioè chi può rispettare fair play finanziario chi il fair play finanziario lo salta ma non come il milan viene sospeso dal campionato europeo come quando è successo quando ci sono club che sono pieni di debiti non viene applicata nessuna normativa io personalmente non lo so faccio il tifoso e lì mi arresto per cui personalmente ritengo che il modus operandi della uefa a mio modo di vedere ma magari sono pronto a ricredermi su tutto per questo sono sempre aperto ad ogni tipo di considerazione dicevo il modus operandi della uefa mi sembra un modus operandi come posso definirlo poco equo ecco questa è la parola giusta noi non abbiamo avuto nessun tipo di privilegio e non avremmo dovuto avere nessun tipo di privilegio a differenza di altri club che mi sembrano leggermente più tutelati io mi auguro che se mai si dovesse fare una superlega non mi interessa se i monopoli non mi sono mai piaciuti quindi se si dovesse fare una superlega io dico benvenga nel momento in cui non è un copio incolla tra uefa e solamente perché alcuni vogliono acquisire del potere dove oggi è impossibile è impossibile nella uefa e quindi creare un organismo parallelo dove altri soggetti si interfacciano con nuovi poteri se qualcosa deve cambiare nel calcio e questo può avvenire attraverso una superlega benvenga certo il calcio di oggi è un calcio che non corrisponde più agli dettami di quella che è un po l'educazione di noi tifosi noi siamo come dire soggetti terzi a disposizione di queste lobby di potere per cui il nostro ruolo deve essere quello di tifare muti che è diciamo così un un gioco di parole un controsenso uno simoro se vogliamo ma fondamentalmente noi dobbiamo tifare e basta pagare gli abbonamenti e basta andare allo stadio spendere soldi e basta perché quando proviamo ad essere contro il sistema ecco che veniamo o presi per pazzi ma questa è un po la storia del mondo oppure non presi in considerazione guardate che accade spesso e volentieri anche tra noi io non mi definiscono youtuber io faccio tutt'altro ma sono un amante del milan e mi piace parlare con voi lo faccio attraverso il mezzo youtube in questo caso però c'è da dire che ho avuto modo di considerare come la comodità della comunicazione è premiante ovvero se sei affine a quelle che sono le logiche di propaganda sei un uomo considerato all'altezza di poter frequentare certi ambienti nel momento in cui il tuo eco la tua voce è al di fuori di ogni genere di conforto di questi signori e beh allora sei messo in disparte e considerato l'ultimo degli ultimi ma sapete chi era l'ultimo degli ultimi no ciao